Una malattia, la perdita del posto di lavoro, entrate su cui si contava e che vengono meno e si rischia di cadere nel racket dell'usura. Per prevenire questo fenomeno è stato presentato un progetto destinato alle famiglie di Padova e Rovigo in difficoltà, circa 14.000 nelle due province. Questo progetto di prevenzione all'usura è un'iniziativa che parte da un fondo messo a disposizione dalla Fondazione Tovini e integrato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che ha consentito di mettere a disposizione un plafond di 500.000 euro per erogare finanziamenti a favore di soggetti potenzialmente a rischio di usura e quindi soggetti che difficilmente potrebbero avere accesso al credito secondo i normali criteri di valutazione dei rischi. L'intesa tra fondazioni e istituto bancario permette di mettere a disposizione delle famiglie un fondo di 500.000 euro. Si può richiedere un prestito da 1.000 a 30.000 euro con una durata tra i 12 e i 60 mesi, con un tasso agevolato e nessun costo di istruttoria. Una duplice rete per chiedere informazioni ed avere supporto. Sono 150 le filiali bancarie nel Padovano e nel Rodigino, ma le domande per i finanziamenti potranno essere presentate anche presso i centri di ascolto delle Caritas di Padova, Adria Rovigo e di Chioggia. Questa iniziativa inoltre si inserisce ad altre due iniziative a favore delle famiglie in questo particolare momento economico. La prima riguarda il microcredito, sempre in collaborazione con le Caritas diocesane, e l'altra, non meno importante, riguarda l'anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni, che consente nell'anticipare alle famiglie l'erogazione della Cassa Integrazione Guadagni, che ha interessato finora oltre 1.300 famiglie nelle due province di Padova e Rodigino.